Don Fabio, lei ha lavorato a stretto contatto con Monsignor Castoro. Ebbene, che tipo di rinnovamento spirituale ha portato nella nostra comunità? Beh, intanto Monsignor Castoro è stata prima di tutto l'immagine del pastore buono, l'immagine del pastore che conosceva bene il gregge, che il Signore gli ha affidato questa porzione di chiesa che è appunto in Manfredonia, a Vieste San Giovanni d'Otondo. E voglio raccontare proprio a proposito di questo un piccolo aneddoto. Quando siamo stati a Roma per portare le reliquie di Padre Pio, così il Vescovo accompagnava il Papa a salutare i vari presenti in piazza San Pietro per il cosiddetto bacio a mano. Poi c'ero io con i seminaristi e poi c'era Don Salvatore, che allora era lettore del seminario, siamo stati un po' gli ultimi della fila. Nel momento in cui poi abbiamo salutato il Papa, a un certo punto il Papa rivolgendosi a lui gli diceva proprio queste parole molto belle, gli diceva, eccellenza, lei mi ha detto il nome di ciascuno di queste persone ed eravamo tantissimi. Si vede che lei è un pastore che sta in mezzo al suo gregge. È stata un'affermazione davvero emozionante per il quale personalmente mi sono tanto commosso. Quindi quale apporto spirituale ha portato la nostra comunità diocesana? Prima di tutto ecco la presenza viva di Cristo buon pastore in mezzo a noi. Chiaro poi con tante dinamiche pastorali che nel corso di questi nove anni in cui ha vissuto in mezzo a noi il suo ministero, piano piano e in maniera anche più energica, ha portato. L'ultimo suo desiderio era quello della visita pastorale che ha giusto iniziato e poi purtroppo non ha portato a termine. Diciamo che anche la gente lo ha percepito molto da vicino, lo ha percepito quasi come un surrogato di Papa Francesco per questo suo modo di approcciarsi in maniera così pacata. È vero? Papa Francesco è arrivato dopo Monsignor Castoro. Monsignor Castoro è arrivato qui nel 2009 e Papa Francesco nel 2013. Ma non vogliamo fare differenze con nessuno perché ciascuno di noi ha la propria personalità. La bellezza di Monsignor Castoro è che sapeva guardare negli occhi la gente e li conosceva per nome. E penso che già questo era quel segno che la persona, di chiunque esso sia, apprezzava tantissimo. Il vescovo che li guardava negli occhi li chiamava per nome, conosceva il suo greggio. Molto molto umano questo e non è da tutti, non è assolutamente da tutti. Bene, grazie mille Don Fabio.